e come vi avete detto bene in mondo visione siamo qui collegati dal convento di Lonato per lui il nostro il nostro grandissimo, il nostro mitico o lui che viene da Bolzano il nostro Giulio Belix eccolo qua Giulio Belix ti voglio il microfono un attimo ma perché ti hanno colciato così? ma presumo per evidenziare il fatto che sono troppo magro dovrei mettere su qualche filetto effettivamente i tuoi amici sono prevenuti, giusto? è chiaro ma vengi presenti i tuoi amici, velocemente? certo, sono Alessandro Alessandro, aspetta, aspetta, Alessandro olè Riccardo olè Andrea ha detto Gotta detto? Gotta Gotta? Gotta, Gotta è una storia lunga no, è cognome, è cognome ah, ok soffre di gotta Luca ha detto Giova Luca ha detto Giova ok Salvatore detto? è di Bolzano Sud giusto? è Bolzano Sud ok Daniele solo Daniele? neanche San Daniele? per seconda no, niente il nostro Giulio Belix detto? Giulio Belix ah, c'è un motivo sempre così voi mi date i nomi sempre così salutiamo il pubblico da fuori ma spiegami un attimo la gente da casa si chiederà se hai fatto l'amore vestito così no, è la prima volta che mi vesti così è la prima volta che fai l'amore? no che ti vesti così ah, che ti vesti così ok il posto più strano dove l'hai fatto? attenzione non pervenuto attenzione non pervenuto non pervenuto ti sbatti e ne atteni un attimo che sei liquido ok non pervenuto non pervenuto il posto più strano dove lo farai? e che ne so ah, non lo so ok bravo, bravo eh, adesso 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 e Asterix dove l'hai lasciato? ah, ce l'avete sulle magliette sulle magliette ok dove vai in viaggio di nozze in Gallia? eh, non lo so eh, può essere in Gallia può essere magari invaderò le Americhe non lo so non lo sai anche lì improvvisi anche questa cosa? vedremo l'anno prossimo è un improvvisatore Giulio praticamente sicuramente non andrai a Roma no, a Roma non credo però l'ultima domanda perché la gente da casa si starà chiedendo qual è la pozione magica per per aver fatto innamorare la tua futura sposa tanta pazienza tanta 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 un applauso un applauso alto sugli Obelix ok ok ti stimano ti stimano gli amici ok siete pronti a cantare ragazzi? siete carichi? si si è attivato Salvatore l'abbiamo perché lui c'è il fuso orario essendo di Bolzano Sud si attiva dopo è tutto un po' più rallentato Terone che fai? no ecco giustamente ha espresso un parere così di territorialità partiamo ragazzi? dai ok l'abbiamo a tutti l'abbiamo a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.